Il progetto di caperì mascolato, come sempre abbiamo fatto fino a ora se vi ricordate, parto e faccio al non rock superman e torno indietro, ricordate che era l'esercizio, poi aggiungiamo al non rock superman il ginocchia per fronte al piatto e come terzo movimento la spinta, dal clip rubato, quindi l'esercizio dobbiamo fare ora e questo vi faccio vedere, allora rock superman, rientro con le ginocchia e spingo il bacino verso la spinta e riparo, ma ora lo faccio vedere, ok? Ok? E praticamente cosa abbiamo fatto? Se io chiudo le spalle, tiro e ascolto, ok?